Sulla mobilità passiva, ieri mattina ha avuto un confronto con l'assessore regionale alla Sanità Salta Martini. Quali sono state le sue richieste e quali i dati che riguardano la nostra regione? Allora, per quanto riguarda la mobilità passiva, cioè quanto ci costa mandare i nostri concittadini marchigiani a curarsi fuori dalla nostra regione, principalmente in Emilia Romagna e in Lombardia, i dati sono estremamente allarmanti perché quelli certificati del 2022 parlano di 44 milioni e mezzo di euro. Mentre nel decennio appena trascorso si parla di oltre 400 milioni di euro. Quindi ci rendiamo conto che è una cifra esorbitante che trattenuta nella nostra regione avrebbe potuto migliorare di gran lunga i servizi sanitari offerti ai marchigiani. Detto questo, l'area più penalizzante è quella ortopedica perché soprattutto ci rivolgiamo nel nord delle Marche al nord e quindi ci rivolgiamo in Emilia Romagna per tutti gli interventi che riguardano l'ortopedia, soprattutto la protesica, quindi protesi dell'anca e protesi del genocchio, che sono quindi interventi di media-bassa complessità. Questo perché? Perché purtroppo nelle nostre strutture pubbliche si riesce a far fronte semplicemente alla traumatologia, quindi alle emergenze, mentre per la protesica c'è una lista d'attesa molto lunga per cui i concittadini che devono fare questi interventi si rivolgono fuori dai nostri confini e questo ha un prezzo molto importante per la nostra sanità, tant'è che su due euro spesi uno finisce nelle tasche del privato. Ecco perché la soluzione, e questa è la domanda che ho posto a Santa Martini, non vorremmo che fosse fare una clinica privata, quella di fare una clinica privata convenzionata a Pesaro, così come esiste quella di Cotignola, struttura presso la quale i nostri concittadini spesso si rivolgono. Quindi noi riteniamo che si debba invece implementare il servizio pubblico, così come ha chiesto il Consiglio Comunale di Fano già a suo tempo con una mozione approvata a stralarga maggioranza e si potrebbe anche prevedere una suddivisione delle aree, quindi la protesica implementarla a Fano mentre lasciare la traumatologia a Pesaro e a Urbino. Questa mattina il Sindaco di Fano Massimo Seri ha rivendicato questi 50 posti letto. Ieri mattina avete discusso anche di questo in Consiglio regionale? No, sinceramente la richiesta del Sindaco Seri è arrivata un po' tardivamente. Io ho controllato la prima interrogazione che ho presentato su questo punto, il Consiglio regionale risale all'ottobre del 2022. All'epoca avevo anche sollecitato un intervento da parte del Sindaco Seri, solo che devo dire che il Consiglio Comunale molto tematico sulla sanità si è fatto con grandissimo ritardo e su grande esistenza dei miei colleghi del Movimento 5 Stelle che siedono in Consiglio Comunale a Fano. Quindi secondo me questa presa di posizione, mi pare di aver interpretato anche che sia stata particolarmente accallorata e vemente, forse arriva fuori tempo massimo perché mentre il Sindaco Seri decideva di non decidere, che è un po' la sua cifra politica, altri si sono mossi creando interlocuzioni, relazioni e rapporti che hanno portato ad avere a Pesaro l'ospedale nuovo e probabilmente anche la clinica. Grazie. Grazie.